Questa è soprattutto una storia di persone. È la storia dei modenesi che a fine ottocento hanno contribuito allo sviluppo della città come la conosciamo adesso. È la storia dei fondatori della Banca Popolare di Modena ed è anche la storia di piccoli imprenditori, bottegai, artigiani, da sempre esclusi dal credito bancario. Ora, per la prima volta, possono cogliere un'opportunità di crescita grazie a una nuova disponibilità di denaro. Due archivi, uno privato, l'archivio storico di Biperbanca, e uno pubblico, l'archivio storico comunale di Modena, sono i testimoni di una forte connessione fra banca e comunità e del mutamento socio-economico del territorio modenese dovuto proprio alla rilevanza di questo rapporto. Grazie. 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 Grazie.